Buy Food Toscana 2021 punta a diffondere e consolidare la conoscenza della qualità delle migliori produzioni agroalimentari toscane attraverso eventi mirati ed incontri tra le aziende toscane e il trade internazionale. L'evento si svolgerà dal 18 al 20 ottobre 2021 a Siena, nella prestigiosa cornice del complesso monumentale di Santa Maria della Scala, dove si terranno numerosi incontri tra le 63 aziende agricole toscane e i buyer stranieri. In contemporanea per 10 giorni, dal 14 al 24 ottobre, si terrà Buy Food Toscana in vetrina. La novità è che finalmente facciamo questa bella manifestazione in presenza e poi abbiamo deciso rispetto alle edizioni precedenti di aprire ulteriormente la manifestazione, quindi non solo i prodotti DOP e IGP che abbiamo, ma la apriamo anche ai prodotti biologici, ai prodotti di montagna e quindi in qualche modo allarghiamo la manifestazione a tutte le grandi eccellenze che la Toscana esprime sotto il profilo della gastronomia.